In questa recensione della Pearl Roadshow 505, disponibile in varie colorazioni, illustreremo dove risiede il valore di questo particolare set e anche come ottenere il massimo da questa batteria nel tempo. Con un'adeguata messa a punto si può fare in modo che questo kit suoni perfettamente per le proprie esigenze. Il pioppo, il materiale con cui sono fatti i fusti, è robusto e durerà nel tempo. E in termini di suono ha le caratteristiche diverse rispetto a un kit in acido sicuramente, ma queste differenze sonore sono molto sottili e difficilmente percettibili per un batterista principiante o anche intermedio. Quindi la nostra raccomandazione è sicuramente il pioppo della 505, che è abbastanza buono per le esigenze di qualsiasi batterista principiante. Concentriamoci invece sull'ottenere la giusta accordatura. Il rullante produce suoni molto nitidi e scattanti ed è accompagnato molto bene dai tom. La Roadshow 505, proposta da Ceccherini Music, viene fornita anche con un charleston e un supporto per piatti della serie Per 500, oltre a un pedale per gran cassa e piatti. Come complemento all'hardware si può, su richiesta, includere anche uno sgabello per batterista e una resistente borsa per le bacchette. L'hardware e gli accessori con cui viene fornito questo kit lo rendono un acquisto facile per chi non ha familiarità con le configurazioni della batteria o non ha abbastanza conoscenza della batteria per acquistare tutto separatamente per creare un kit personalizzato. Il pezzo economico proposto da Ceccherini Music lo rende ancora più attraente. L'hardware Roadshow è composto da due asti per piatti, un'asta per rullante e un'asta per charleston. Tutto questo hardware fornito non avrà problemi a supportare i piatti e i rullanti inclusi. Tutti scopriranno che la qualità di questo set è davvero molto buona. Pearl ha fornito un pedale per gran cassa a doppio battente a catena singola, può soddisfare una vasta gamma di generi musicali. Un batterista principiante o studente che non colpirà il tamburo con troppa forza beneficerà molto di questo pedale. I nuovi batteristi scopriranno che questo pedale offre esattamente la resistenza e il sound di cui hanno bisogno. Il rullante è in grado di dare una gamma molto dinamica e un suono coerente se tenuto correttamente. Questo può essere facilmente ottenuto se si accordano regolarmente i fusti, il rullante e la cassa. In questo modo ci si esercita nella cordatura, che è sicuramente un'abilità cruciale nella vita di un batterista. Dopotutto i ritmi possono essere completamente puntuali, ma se si suonano su un blando rullante o una gran cassa troppo debole o troppo tesa, il risultato potrebbe essere deludente. Si tratta di un kit di batteria composto da 5 pezzi più un set di piatti Solar by Savian. Il set offre un suono equilibrato con un alto contenuto di bassi e un'eccellente risposta. All'interno i fusti della Roadshow sono fatti, come già detto, di 6 strati di pioppo con uno spessore di 7 mm. I supporti inclusi hanno robusti treppiedi a doppio rinforzo per garantire complessivamente una fermezza maggiore di tutto lo strumento. Vi aspettiamo in negozio in via dei Ginori 31 Rosso a Firenze per conoscere e provare questo articolo con l'aiuto del nostro esperto Nicolo Vanni, sempre a vostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi e salutarvi ed invitarvi a cliccare mi piace su questo video, iscrivervi al canale YouTube di Ceccherini Music, attivare le notifiche per non perdere nessun aggiornamento e a commentare o a fare qualche domanda che riguardi i prodotti presenti in negozio o sul sito www.cecherinimusic.com. Un saluto a tutti da Cesar Martignon.